buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del tgx spettegules purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia ci è arrivata ora in studio la notizia sconvolgente della grave perdita che ha colpito la famiglia del tonto purtroppo un dente del tonto si è tolto la vita durante un mukbang il tonto intervistato ha dichiarato di non essersi accorto di nulla solo grazie ai commenti degli utenti che commentavano sotto al video è venuto a conoscenza del terribile gesto non si sa ancora il motivo che ha portati il piccolo dentino a fare questo gesto ma vi mostriamo il pezzo del video dove viene ripreso il momento drammatico il molti dicono che si tratta di una tragedia annunciata e che viste le condizioni degli altri dentini si teme il peggio vista la drammaticità delle immagini se ne sconsiglia la visione ai più sensibili grazie non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale non hanno più il diritto di indossare la maglia della nazionale passiamo all'altra notizia del giorno sembra che la famosa youtuber peppa pig abbia introdotto un nuovo modo di aprire i suoi vlog in passato peppa pig ha spesso imitato le sue colleghe replicando il loro stile nei video quando ha iniziato peppa pig copiava mia cellini una ragazza che diceva oddio c'è una farfallina ho paura mi fanno schifo le farfalle peppa cercava di emulare varie ragazze ma nel tentativo di copiarle il risultato era spesso poco riuscito peppa pig ha imitato diverse youtuber tra cui mia debora e melissa da debora prendeva la vocina da melissa il comportamento da mia cellini il ruttino e la paura delle farfalle nonostante i suoi sforzi di emulare tutte queste ragazze peppa non riusciva a essere come loro e probabilmente non lo sarà mai finché non deciderà di cambiare veramente ma vediamo insieme prima l'apertura che peppa pig usa ora nei suoi vlog e live e poi confrontiamola con quella di melissa dove si vede chiaramente peppa cercare di imitare melissa con scarsi risultati ora vediamo il vlog di melissa dimenticavo di dire che peppa pig ha imposto anche al marito di aprire i suoi vlog allo stesso modo ma vediamo il filmato di melissa bene come avete potuto vedere sono identiche ora sappiamo per certo che chi copia lo stile di altre youtuber è peppa pig ma lei accusa gli altri di rubare i suoi di contenuti bene per oggi è tutto il tgx spettagules vi dà appuntamento alla prossima edizione